Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è martedì 27 dicembre 2022 e riprendiamo dunque la nostra rassegna stampa dopo due giorni di sosta, i giornali non sono usciti il 25 e il 26 dicembre, anche i giornalisti qualche volta fanno festa, comunque oggi i giornali sono pieni di notizie così come si è trascorso il Natale, quali sono state le notizie di cronaca che non mancano mai anche durante il periodo delle festività. Comunque procediamo con l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia un grande santo, San Giovanni, San Giovanni Apostolo, il più giovane degli apostoli. Giovanni ebbe una vita lunghissima, scrisse uno dei Vangeli e oltre anche l'Apocalisse, si prese cura di Maria dopo la morte di Gesù, a lui è dedicata la Basilica Romana del Laterano fatta costruire da Costantino. Morì a Efeso in Turchia dove ci sono i ruderi della chiesa costruita sulla sua tomba, purtroppo è stata semidistrutta. Ed ora passiamo anche alle previsioni del tempo. Vediamo che sulle Marche il sole sarà prevalente fino al mattino salvo locali foschie lungo la costa. Molte nubi entro sera e locali pioviggini sul Pesarese. Sulle coste il spirerà con una tensione debole da ovest-nord-ovest, nell'interno debole con sud-sud-ovest. Le temperature sono sempre in calo ma direi che si assestano tra gli 8 e i 13 gradi. Le temperature minime ancora sono superiori alla media degli anni scorsi, quindi abbiamo un inverno piuttosto mite fino adesso, quindi non azzardiamo altre previsioni per gennaio e febbraio, quando l'inverno precipiterà proprio nel cuore della sua stagione. E quindi passiamo alle notizie del giorno, a partire dal resto del Carlino. E vediamo subito una notizia di cronaca. Durante le festività i ladri non sono stati inerti, non sono stati senza così tentare un colpo e hanno tentato un colpo un'altra volta al Bancomat del Codma. Assalto flop però questa volta non gli è andata bene. Banditi tentano di scassinare il distributore del Bancomat, ma l'allarme li mette in fuga e fuggono a mani vuote. È accaduto nel notte dei giorni scorsi, quindi probabilmente alla vigilia di Natale. L'altra notte al Bancomat del Codma con un gruppo di malviventi che ha provato a sradicare il coperchio della cassaforte che custodisce il denaro, ma hanno sbagliato i conti. Infatti dopo aver provato ad aprire un varco con degli utensili nel vano della consegna appunto delle banconote, si sono resi conto di aver fatto partire l'allarme. E lì avrebbero avuto soltanto cinque minuti per dileguarsi, perché entro cinque minuti sarebbero arrivate le forze dell'ordine, ma anche l'agenzia di vigilanza che è collegata con il Bancomat. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno fatto i danni e se ne sono andati a mani vuote. Purtroppo non è la prima volta questo Bancomat che sorge un po' isolato in periferia e in una zona che di notte ovviamente è deserta, quindi è un'operazione che si può fare senza particolari imprevisti o incidenti, a meno che quello dell'allarme, insomma, di far scattare l'allarme come è accaduto l'altra notte. E quindi un'impresa andata a vuoto. L'aeroporto vola basso, resa di conti nel 2023. La sorte dell'aeroporto di Fano, ma soprattutto la sorte della società di gestione del campo di aviazione, è stata oggetto di dibattito nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. A relazionare, su una delibera, è stato l'assessore Mascherin che ha la delega delle società che sono partecipate dal Comune. La società aeroportuale, di cui il Comune detiene il 42,46% delle quote di azione e la Fano Fortuna, è priva di due requisiti importanti per sopravvivere. Quello che non supera il milione di euro di fatturato e non ha registrato un utile netto consecutivo nell'ultimo triennio. In ogni caso la decisione della sorte della Fano Fortuna è rinviata al 2023 sulla base di un approfondimento legale e contabile che valuti un po' tutti gli scenari. Dobbiamo dire che ancora pende sulla sorte di questa società la decisione del Consiglio di Stato, che non la vuole emettere, per quanto riguarda la fine della proprietà di questo grande territorio. Il Comune vorrebbe mantenere la nuda proprietà e dare la gestione a chi vincerà la gara d'appalto, ma sembra che la cosa non trovi l'accordo appunto delle altre sfere. E passiamo ora invece alla Fondazione Carifano. Piscina la Fondazione è una scommessa vinta. Lo ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, nella tradizionale cerimonia degli auguri che si è svolta alla vigilia di Natale. Nell'occasione il Presidente ha fatto un consuntivo di tutta l'attività svolta nell'anno dalla Fondazione. Un'attività molto molto intensa, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista strutturale, ha continuato a realizzare questo grande impianto natatorio che dovrebbe essere consegnato entro i primi tre mesi del prossimo anno, quindi entro poco tempo, entro il mese di marzo. Il Presidente Gragnola ha tracciato il bilancio dell'attività svolta nel 2022 e questa è un'opera attesa da vent'anni. E dobbiamo dire che nel corso del 2022 è stato l'anno un po' del trentennale, si sono festeggiati i trent'anni di attività della Fondazione, durante i quali la Fondazione stessa ha impegnato nel territorio circa 60 milioni di euro, quindi una cifra considerevole tra erogazioni, investimenti strutturali e via dicendo. Però non è che le rese degli investimenti in borsa sono state sempre lineari. Pensate che nel 2007-2002, insomma adesso non mi ricordo più nella cifra, era di 5 milioni le erogazioni, ora sono di un milione e mezzo, poco meno, un milione e 350 mila per il 2023. Purtroppo questo non dipende ovviamente né da Gragnola né dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, ma dipende dall'andamento della borsa e dalla economia nazionale e internazionale. Il 2022 è coinciso dunque con la celebrazione del trentennale della Fondazione, tanto che Gragnola ha ricordato come in questi tre decenni la Fondazione abbia donato all'ambiente 1,2 milioni di euro, 6,4 milioni al volontariato, 7,7 milioni all'istruzione, 9,6 milioni alla salute, 11,8 milioni alla famiglia e anziani, mentre 24,3 milioni per la sezione Arte e Cultura. E dobbiamo dire che la Fondazione è un elemento molto importante per vivacizzare e qualificare la cultura fanese. Ci sono convegni, ci sono concerti, ci sono anche investimenti in strutture importanti come Palazzo Zagarelli che costruiterà un altro centro oltre a Palazzo Bracci Pagani e oltre alla Pinacoteca di Arte Sacra di San Domenico, uno dei centri culturali di grande importanza. Grande riscontro ha ottenuto anche il concorso internazionale sul clarinetto, la celebrazione per i 25 anni della presenza Fano dell'Università d'Urmino, il convegno in ricordo di Valeria Purcaro, Marc Fano, Marc Libia, a cui ha relazionato anche Oscar May, che è l'archeologo che in questo momento è in Libia a coltivare gli scavi a Cirene. Domeniche di San Domenico, un'iniziativa che si svolge per buona parte dell'anno e poi 30 di notte è il concorso per scrittori in erba Edita, che ha dato l'opportunità a tante persone di concorrere per la pubblicazione di un'opera nel cassetto. Ed ora passiamo ad Urbino, eccolo qua il titolo. Il 2023 sarà un anno chiave per i lavori pubblici, quindi anche a Urbino avrà molte opportunità per realizzare opere di grande interesse e opere che destano una grande attesa. Mara Mandolini, responsabile dell'ufficio tecnico in Consiglio Comunale, ha relazionato un po', ha così esposto una lunga lista per quanto riguarda i lavori che sono in corso e che sono in programma. Partendo da Castaccolo, l'elisuperficie con finanziamento regionale e poi anche il marciapiede in convenzione con la fondazione del santuario sono ormai in conclusione. Ci sono poi due progetti in cofinanziamento con il GAL, la pista ciclabile della croce alle Cesane e il campo per il golf che dovrebbe partire entro metà del 2023. Tempi simili per il vicino parco dell'Aquilone con i terreni acquistati a dicembre dopo aver trovato l'accordo con i proprietari. Nella stessa area è partito anche il primo lotto del Bike Park con la pista di Pump Track, mentre il secondo con il finanziamento regionale riguarderà la pista nei boschi, una bella pista per un trekking nel mezzo della natura, fino a Canavaccio. Sempre con il GAL c'è anche un finanziamento per sistemare il ponte di Schieti che sarà accessibile fino alla prima campata e in cui creeremo un'area di sosta per i ciclisti, mentre poi tramite il PIL ne è arrivato uno per costruire gli spogliatoi di tennis a Varea. Infine è in fase di gara il rifacimento della pista d'atletica allo stadio. Ma non si limitano qui gli investimenti che il Comune di Urbino sta facendo in opere pubbliche, non posso ancora continuare a elencarli tutti, ma sono ben evidenziati in questo articolo. Il 2023 sarà un anno chiave per i lavori pubblici. Passiamo ora nel Montefeltro, dove vediamo che c'è un intervento del consigliere regionale Cancellieri per quanto riguarda la sanità dell'Alto Montefeltro. Per la sanità saranno garantite tutti i servizi che sono in essere, quindi sarà garantita la continuità di tutti i servizi. Lo ha affermato durante l'ultima seduta del Consiglio regionale Filippo Saltamartini, assessore alla sanità delle Marche, rispondendo ad una interrogazione sul tema posta proprio da Giorgio Cancellieri, che è il consigliere in quota della Lega. Ed ora passiamo ad un incidente stradale. Non mancano mai durante le festività, come negli altri giorni. A Cantiano un'auto passa con il rosso e si scontra frontalmente con un'altra auto sul viadotto. Una donna di nazionalità cinese è stata portata ad Ancona, un altro ferito ad Urbino. Si tratta di un incidente che si è verificato ieri pomeriggio. Una Clio con a bordo tre persone di nazionalità cinese in viaggio verso Roma si è scontrata con una Golf guidata da un giovane perugino che proveniva in senso opposto. Lo scontro frontale è stato violento. Il motivo è semplice. Una delle due auto, bisogna verificare quale, è passata con il rosso perché lì c'è un semaforo e quindi lo scontro non era possibile se tutti e due, se avessero almeno una delle due, avesse rispettato la segnalettica. Vediamo qualche notizia che riguarda Pesaro, sempre sul resto del Carlino. È tradizione a Pesaro che durante le festività natalizie ci sia anche una festa per i cani e i loro padroni, ovviamente. È grande successo ha ottenuto per Natale insieme amico cane che ogni 25 dicembre sera, da ben 32 anni, pensate, si svolge davanti all'albero di Natale in Piazza del Popolo. A benedirli gli animali c'era anche l'arcivescovo Salvucci, ad affiancare l'ideatore dell'iniziativa e Torre Florio anche il pilota Lucchetti, quindi tutti amanti degli animali. Però ci sono problemi perché la piazza al buio per risparmiare non è affatto piaciuta agli operatori che animano il mercatino di Natale. Natale al buio, il mercatino fa flop, ira in piazza, più costi che guadagni. I commercianti appaiono delusi, lamentano l'assenza di luminarie e l'animazione, così la gente non viene. Hanno detto il problema però non è solo la mancanza della pista di ghiaccio, le casette sembrano solo un riempitivo. Probabilmente si sarà anche qualche altra ragione perché la gente non ha fatto molte spese durante il periodo natalizio. Sì, i regali non sono mancati, però insomma quest'anno si è cercato di contenere la spesa e quindi il mercato è stato poco vivace e poco animato. E questa è una notizia di cronaca imprevedibile e imprevista. Trovata morta la giudice Francesca Ercolini. Aveva appena 51 anni, era sposata, aveva un figlio e il rinvenimento del corpo in casa da parte dei familiari. Ieri mattina alle 11 inutili soccorsi da parte del 118. Si tratta di Francesca Ercolini che abitava in zona mare, in via Battisti ed era sposata con l'avvocato Lorenzo Ruggeri. Hanno un figlio adolescente. La scoperta del corpo è stata fatta dai familiari al loro rientro in casa. All'arrivo dell'ambulanza del 118 per il magistrato non c'era più nulla da fare. Purtroppo il cuore aveva cessato di battere. Gli inquirenti ovviamente ora avviano le indagini per sapere l'esatta causa della morte di questo magistrato. Nessuna causa viene esclusa e probabilmente sarà ordinata l'autopsia. Il giudice di raffinata professionalità aveva un sorriso per chiunque, dice questo trafiletto appunto a fondo dell'articolo. Pecco con Domizia, passiamo ad una notizia più allegra. Pecco con Domizia la vittoria più bella. Ebbene Bagnaia fa la proposta di matrimonio alla fidanzata storica che da anni si è trasferita in città. Lavora per la boutique Ratti. A lui la cittadinanza onoraria di Pesaro e Tavuglia ma anche lei è ormai dei nostri, dicono gli appassionati di motociclismo. di motociclismo. Ebbene il motociclismo è un po' lo sport amato insieme a quello del basket dai pesaresi e poi anche da tutto il circondario tra Marche e Romagna. Valentino Rossi ha seguito le orme di tanti altri campioni che lo hanno preceduto ed ora la bandiera passa appunto a Pecco Bagnaia, questo grande appassionato di moto che punta al mondiale. Salta il banco Matt Poste, Ricco Bottino, anche il resto del Carlino parla di questa notizia di cronaca. I malviventi hanno colpito all'alba del 24 a Monte Labate. Sono poi fuggiti indistorbati con 80 mila euro. È la notizia che precede il colpo che è stato fatto al Codma di Fano e quindi probabilmente, siccome la tecnica è presa poco quella, probabilmente è la stessa banda che agisce in zona e cerca appunto di sorprendere la vigilanza nei momenti di festa, quando magari qualcuno è distratto per festeggiare il Natale. In realtà però questo non è avvenuto, perché al Codma i lati sono andati via, come abbiamo detto, senza avere il bottino. Vediamo anche per quanto riguarda Fano l'altro colpo. Codma assalto flop al Bancomat. Banditi tentano di scassinare il distributore di banconote, ma l'allarme li mette in fuga a mani vuote. E poi invece vediamo come l'opera di Padre Pio è stata riaperta in occasione del Natale. Cappelletti d'asporto per 365 bisognosi. Pensate quanto è aumentata l'affluenza alla mensa di San Paterniano. Dagli 80 che così frequentavano questo grande benemerito istituto di beneficenza nei giorni passati, si è passati a 365. Ebbene, si tratta di uno sforzo molto molto oneroso per l'associazione che non sa se riuscirà a sostenere questa grande richiesta. Così la mensa di San Paterniano comunque per il periodo di Natale ha potuto sostenere i poveri tra Natale e Santo Stefano. Dopo l'8 gennaio, dicono i gestori, si vedrà. Ebbene, 365 pasti da asporto, oltre a garantire il pranzo di Natale per gli ospiti ucraini della struttura e per altre sei persone che altrimenti sarebbero rimaste sole. E dopo la pausa di dieci giorni per le annunciate difficoltà economiche tra il 5 e il 14 dicembre, la mensa è stata chiusa in quel periodo, ora ha ripreso a funzionare a pieno regime, garantendo la distribuzione per tutto il periodo delle festività. Dopo l'8 gennaio, fanno sapere dall'opera di Padre Pio, vedremo se ci saranno le condizioni per andare avanti. Certo che 365 persone da mantenere sono veramente, veramente tante. Ed ora vediamo anche qualche notizia sul Corriere Adriatico, dove la pagina di Fano parla ovviamente anche qui del Bancomat, del colpo del Bancomat, doppio colpo, ma uno è fallito, quello di Montelabate e quello del Codma. E poi vediamo l'incidente a Cantiano, passa con il rosso, sulla strada una corsia, due feriti gravissimi. E qua vediamo invece una notizia che proviene dalla regione Marche, ed è l'assessore regionale alla cura della costa, la tutela ambientale della costa, Stefano Aguzzi. Scogliere da Metauriglia, Torrette, dalla regione 4 milioni del PNRR, gli investimenti già garantiti. Aguzzi rivela però che su Ponte Sasso il comune si è disinteressato. Ebbene, in questo articolo l'assessore Aguzzi fa un po' una disanima per quanto riguarda le necessità di tutela della costa, sia del tratto che da Larzilla va a Fosso 6 ore, sia del tratto che da Ponte Metauro va giù fino a Marotta. Sono due necessità dove occorre intervenire, perché ci sono dei vuoti dove il mare avanza e quindi pratica l'erosione alle spiagge. Da una parte c'è la ferrovia da difendere, ma ci sono anche le concessioni balneari, mentre dall'altra si estendono delle concessioni balneari a nord di Fano che arrivano fino a Fosso 6 ore. Ci sono anche buchi da chiudere, come quello davanti a Sassoni e davanti ai Bagni Carlo, davanti alla pista dei go-kart, e ci sono anche situazioni dove ci sono le scogliere, ma queste ormai sono dissestate per la violenza dei marosi e quindi devono essere, si dice, rifiorite, ovvero ricaricati. Ci vogliono altri massi. Stefano Aguzzi annuncia dei consistenti finanziamenti da parte della Regione. Per quanto riguarda invece Ponte Sasso, dice che qui la situazione è un po' diversa. A Ponte Sasso non c'è un bel nulla, ha detto Aguzzi, in quanto non esiste alcuna richiesta avanzata dal Comune di Fano. Non risulta che vi sia né una fase di attenzione per questo tratto di costa, né una richiesta perché la Regione intervenga. In effetti in quel luogo esiste un chilometro e mezzo di scogliere vetuste e degradate, ha detto poi l'assessore. A questo riguardo intendo mettere a bilancio della Regione per il 2023 una cifra che si aggirerebbe sui 2 milioni di euro per un bando a cui potranno partecipare i Comuni, e quindi anche il Comune di Fano, per l'intervento su Ponte Sasso. E vedremo, insomma, se la situazione potrà risolversi anche per questo tratto di strada. In questi 30 anni di storia, elagiti alla città 60 milioni di euro, è il consultivo fatto dal Presidente della Fondazione, Giorgio Gragnola, per la cerimonia degli auguri di Natale. E poi vediamo sulla pagina di Senigallia come il primo Natale senza il mio Mattia mi aiuta il sorriso degli altri bimbi. A parlare così è il papà di Mattia, il bambino che è morto durante l'alluvione di Senigallia. Il primo Natale senza il mio Mattia. Ebbene, ho rinunciato alle ferie chieste mesi fa. Lo dice Tiziano Lucconi, che è andato a lavorare anche il giorno di Natale, offrendosi come volontario per il turno pomeridiano in comunità. Testività che per il padre di Mattia, il bimbo che è morto il 15 settembre scorso, durante l'alluvione di Senigallia, dice non ha più senso che io festeggi qualcosa, preferisco aiutare gli altri anche il giorno di Natale. Il grande vuoto suscitato dalla morte di questo bambino che purtroppo è stato travolto dalla piena, dall'alluvione, dal fango. Pensate quale dramma ha vissuto i genitori e purtroppo anche il bambino che è deceduto. Vediamo qualche notizia che riguarda Pesaro anche sul Corriere Adriatico. Ebbene, Pesaro ha tanti soldi, tanti soldi per tante opere pubbliche. Il PNRR è una iniezione di fiducia, di opportunità che sarà poi inimitabile nel corso dei prossimi anni. PNRR è le sfide del 2023 del Comune di Pesaro. Mai così tanti soldi, ma con pochi tecnici e troppa burocrazia, dice il titolo che viene evidenziato dall'articolo scritto da Thomas Delbianco. Vediamo come vengono spesi questi soldi. 7,6 milioni per il recupero di San Domenico, 8,8 milioni per la valorizzazione di Palazzo Mazzolari, 4,4 milioni torre libraria e Palazzo Almerici, 3,5 milioni demolizione e ricostruzione della scuola Anna Frank, 3,7 milioni nuovo plesso scolastico in Via Rigoni, 5,5 milioni efficientamento della scuola Manzoni, 15 milioni addirittura per il recupero di San Benedetto, di Palazzo Aimonino, Palazzo Ricci. E poi ancora, 1,5 milioni per la Cittadella Sport Torace, 4 milioni per il Centro Federale di Basket di Via Togliati, 1 milione per il campo baseball. Sembrano noccioline, in realtà sono finanziamenti consistenti che potranno qualificare la città di Pesaro e dare opportunità ai suoi abitanti. I tempi e le scadenze del PNRR sono il 31 marzo del 2003 per l'affidamento degli appalti, primavera 2024 per il completamento del 30% delle opere avviate, 2026 è il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la reddicontazione delle opere effettuate. Se non si rispettano queste aure, cade il finanziamento e il Comune rimane nei guai. Sciocche per il giudice Francesca Ercolini, il marito rientra a casa e la trova morta. Il magistrato era presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Ancona e aveva 51 anni, abitava a Pesaro. Qua invece abbiamo Crepe e Calcinacci, la pieve di Santo Stefano sbarrata, appello per la messa in sicurezza. Si tratta di una chiesetta nella storica città di Candelare. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto, a risentirci. Grazie per l'ascolto.